ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco rimage a cosa serve rimage a un parafarmaco appartenente alla categoria degli creme gel contorno occhi e commercializzato in italia dall'azienda skin use srl informazioni commerciali titolare skin use srl concessionario skin use srl categoria di appartenenza creme gel contorno occhi confezioni rimage crema gel contorno occhi 15 ml indicazioni rigenerante anti agine per il contorno occhi ideale per prevenire e attenuare rughe micro rughe borse occhiaie e cedimento della palpebra idrata e nutre a fondo il contorno occhi per un aspetto riposato e ringiovanito texture fresca e leggera modalità d'uso applicare mattina e barra o sera picchiettando delicatamente con l'indice e il medio su tutto il contorno occhi dalle tempi fino alla radice del naso e sulle palpebre mobili fino alle sopracciglia ideale anche dopo l'applicazione di fospi da marchio registrato siero attivo per un miglior mantenimento dell'aspetto cutaneo descrizione e caratteristiche rimage a marchio registrato crema gel contorno occhi contiene fospidina un complesso formato da fosfolipidi estratti dalla soia e glucosamina la loro sinergia ha dimostrato un'importante azione rigenerante sui tessuti cutanei in quanto l'attività della glucosamina precursore dell'acido ialuronico risulta efficace grazie alla veicolazione operata dai fosfolipidi che penetrano fino al derma texture fresca e leggera principi attivi funzionali acido ialuronico ad alto medio e basso peso molecolare ad azione rassodante elasticizzante e tonificante per una pelle pia liscia e compatta esperidina flavonoide utile per favorire il microcircolo e per prevenire e migliorare occhiaie borse e cedimento delle palpebre lattoferrina favorisce la rimozione degli ioni ferro responsabili del colore bronastro delle occhiaie avvertenze rimage a marchio registrato a un contorno occhi la cui tollerabilità ha stata dermatologicamente testata su pelle sensibile si sconsiglia l'applicazione solo in caso di sensibilità accertata verso uno dei componenti il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali in luogo asciutto e a temperatura ambiente e al riparo dalla luce componenti e ingredienti acqua caprilic barra capric trigliceride propilepti caprilate glicerine orizza sativa stark sodium poliacrilate lecetine glucosamine sulfate lactoferrin glucosile speridine sodium ialuronate tocopherol idruxipropyl guar etilexil glicerin ascorbil palmitate citric acid fenoxietanol disodium edta fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato